La richiesta dei danni al Governo nazionale non può che passare per un documento tecnico che quantifichi i danni subiti dagli aziende agricole e zootecniche. Di questo si è discusso al tavolo verde con le organizzazioni professionali. L'assessore Mazzocco ha delineato il percorso che si sta facendo in sinergia con la protezione civile, la presidenza della Giunta e gli altri dipartimenti regionali interessati. Una riunione di lavoro molto costruttiva. Le organizzazioni agricole hanno dichiarato piena disponibilità a collaborare all'interno di questo percorso perché è importante arrivare in tempi brevi a definire il documento da parte del Dipartimento Agricoltura che concorrerà all'assessura della relazione finale regionale per la stima dei danni.